Allora, siamo al 100% di batteria, eh Pasquale? Allora, se ci ribaltiamo... No, dai, togli il seno, voglio ribaltare l'interno niente. Vai, comunque... Momento di silenzio! Quanto mangio verso di sci? Ragazzi, buongiorno! Ciao Pasquale! Oggi abbiamo una macchinina fuori di testa, ragazzi, guardate, siamo in montagna, anzi, cioè, in realtà, dietro Pasquale c'è una mega salita, è una giornata difficile, molto difficile, però ce la possiamo fare, vai! Primo tornante! Oh! E la macchinina va su, eh? Allora, siamo a 50 all'ora, già arrivati, 50 all'ora, bene. Allora, siamo al 100% di batteria, eh Pasquale? Allora, se ci ribaltiamo... No, dai, togli il seno, voglio ribaltare l'interno niente. Vai, comunque... Oh! Una trazione posteriore o un'anteriore? No, è un'anteriore, un'anteriore. Ah! Non so, rampa bene! Oh! Oh! Eh, rampa bene, sì! Sì! Ah, ma va su, che è un piacere, eh! Non si direbbe che è un quadriciclo, eh! Oh, qua sospensioni MacPherson, eh! Cioè, hai capito? Io comunque ho paurissimo a tornare giù, eh! Perché finché andiamo su... Sì, vabbè, spero che tu non scenda così come stiamo salendo. Eh! Volevi! Beh, bisogna testare la frenata rigenerativa. Ah, ok, no. Dovevamo portare i caschi, allora. Sì, sì, dovremmo portare i caschi. Sì, hai ragione. E allora, che cambio di direzione, eh! C'è un pezzo. Cosa? Cazzo, stai volando? E' addirittura stortata la telecamera. Cazzo, con l'ami non andavi così forte. Eh no, non andavano avanti i lami. Qua è crono scalata. Crono scalata. Momento di silenzio. Quanto avanti hai detto di sì? Volevo un testimone. L'invincibile coppia. Io ho paura a tornare giù, eh, lo dico. Sì, no. Io non scenderei a questo ritmo, perché la prima curva siamo... Andiamo giù dalla... Cioè, arriviamo prima, però. Non facciamo la principale, praticamente. Segniamo tra gli alberi. Non facciamo la principale. È bellissimo. Me la devo segnare. Mi sta salendo la Pasqua del 92, ragazzi. Eh! Eh, la madonna! Cos'è Pasqua del 92? Questa roba è qua. Eh, la madonna! Beh, è degli anni, comunque. Avrai anche mangiato parecchio. Eh, sì, andate. Qua in mezzo agli alberi, c'è! Uh-huh! Ho visto, ho visto. Stai tranquillo. A vero. Conta che noi, a te, sembra che stiamo andando veloce. Ma siamo ai 35 orari. Eh, sì, però... Siamo arrivati! Siamo arrivati la Maddalena, signore. Eh, stesso parcheggio dove ho parcheggiato un'altra volta. Cosa? Non si può dire la parola con la C. Bippala, figo. Bippala. Informazioni, veicolo. Abbiamo speso solo il 16% di batteria. E non siamo andati bianissimi. E la Insta è ancora lì, bella com'è il sole. Brava! Tutto ok, eh? Bella. Non puoi, non puoi scendere così, ci ripacchiamo. Eh, alla prima curva siamo... Stai tranquillo, ma qua. Ci spacchiamo. Ci vengono a raccogliere col cucchiaio. Ma la partenza non è stata male, eh? Qua, una volta, con la Smartina, ci sono venuto che pioveva. No, nevicava. Sono arrivato tipo a metà strada. Ho dovuto chiamare perché non... Ecco, è arrivato il trattore. Ho chiamato un mio socio che aveva un paggero. Aveva 19 anni, eh. Il mio socio con il paggero è venuto a prendermi con la corda. Mi ha tirato fuori dalla neve con la corda. E poi l'ho fatta tutta in retro. Effettivamente dal video della Mi dell'altra volta non si notava che tu andassi così... Forte? Così senza paura. Perché, tipo, io la più solida adesso la sto imbottigliando. Vedi? Oh, vecchio, dai, rallenta. Ma guarda che non sto da... Siamo a 35 all'ora. Ho capito, ma hai presente che cavo di cadavere di strada che è questa qui? Ma va... Tranquillo... La... No, qua mi ero cagato addosso anch'io, eh. Ok, va bene. Ok, no, perché sto dicendo va bene. No, mi ero cagato addosso anch'io, sì. Va bene per il contenuto, però... Sì, perché sai che saltare, insomma, non è tanto bello. La pelle, insomma, è sempre... Ah, se vuoi la facciamo tutta... La faccio tutta con un braccio, se vuoi. Fuori dal finestrino, così. Cosa dici? Eh, potrebbe essere una challenge. Non, non è tanto! No, non è tanto! Adesso saranno lì in analisi forense del video per sapere che minchiata hanno fatto quei due che si sono schiantati contro l'albero No, no, no Come fa mia moglie più brutto No, no, no Chiamate la scientifica Dai che siamo quasi arrivati, dai che siamo quasi arrivati Sì, no, perché magari non riesco a fermarmi Poi sono Donani Brescia, noto youtuber bresciano Pippa anche questa Scellerato Scellerato, io con le parole lì forbite non le so Se arriviamo giù che non frena più, problema Ok, eh sì, bene Allora aspetta che tengo l'altro piede sul freno a mano Grazie del problema Ah che poi in discesa prende anche velocità Eh, eh, direi che è un problema Come va Pasco? Ti vedo, ti vedo un po' teso Eh, sì, sì, parecchio Caro, caro Teo Avresti bisogno di un massaggino Diciamo che sono pentito di aver ti detto Sì, dai, facciamo il video Ci sta Perché poi tra l'altro non mi hai detto cosa avremmo fatto Eh, dai, io ti ho detto La trappola era quella Facciamoci l'inganno della Cadrega Bravo, Gino Guarda che ci fa passare Mamma, che bello Cosa? Coglio Ho sentito il profumo della signora Eh, sì Qua io sto diventando parte integrante della portiera Ti vedo, ti vedo Che ha degli appi Ma puoi anche attaccarti sopra come fanno i doni Regge, eh È solita perché io qua sto tirando la maniglia come non ci fosse un domani Altro tornantino Ok, libero Carino Siamo arrivati Sì, sì Guarda che c'è ancora una bella E qua, poi Va giù Ok Amico, amico, amico Non ci schiantiamo contro No, 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 esatto Trela Ecco lì Così non si riesce a frenare Sì, freno pedale Hai sentito il profumo del freno Eh, sarà un po' un mix gomme freno Siamo arrivati Ce l'abbiamo fatta 19 minuti Allora Abbiamo fatto in totale 14,5 km E la batteria è ancora all'84% Quindi a scendere Ha ricaricato Non ha consumato niente Ah, non ha consumato No, non ha consumato niente Però è curioso il fatto che nonostante tu abbia inserito a tutta potenza il freno a mano Adesso Non stia tanto fermo No, sta solo pensando Ah, ok Hai cagato? E questo non è grandemente Ah, vecchio, c'è in drive, è ovvio Metti l'NR? Eh, sì Ok, adesso sta fermo Aspetta, scendiamo Prende un avvocato a dare Vuoi scendere? Va bene, scendiamo Adesso la facciamo al contrario, guidi tu No, eh Io non mi fiderei No, no, no Per niente Ragazzi Boh Direi che Vito finisce qui Sì, sì La ZADB Promossa Promossa a pieni voti Promossa veramente a pieni voti Sì? Sì Ragazzi Se volete saperne di più Guardatevi il video della recensione E poi andate anche a vedere Su Eletronauti.it L'articolo Su quest'auto Che praticamente Racchiuderà un po' Tutte le nostre esperienze Ok Per fortuna che non ho mangiato Fate un languorino Un pizzo Qui sta Ciao Grazie a tutti